Un sogno fatto di atmosfere da altri tempi e abiti straordinari. Il sogno di un waltzer, l'evento ispirato al gran ballo delle debuttanti, è promosso lo scorso anno nella Sala degli Specchi del Teatro Petruzzelli di Bari, andato in scena, questa volta nel Palazzo Viceconte di Matera, per una serata a nove ragazzi di età compresa tra i 16 e i 23 anni hanno fatto il loro ingresso in società. L'obiettivo principale è quello della solidarietà, perché noi siamo legati all'associazione Onunus di Frantonio Trigianti di Montescaioso, il quale lui ha dedicato la sua vita alla missione, è un frate missionario, lui è piccolo così ma è un grande uomo, io lo definisco un piccolo grande uomo. Un evento che ha visto anche momenti di arte, cultura e musica destinato a diventare un appuntamento di tradizione del Palazzo Viceconte con l'obiettivo di promuovere la cultura nella città di Matera. Con il programma di farlo diventare un appuntamento fisso, sia mia moglie che io siamo stati entusiasti di ospitare questa manifestazione e per questo debutto, tra l'altro in un anno fortunato per Matera, coincide pure con Matera che diventa capitale europea della cultura, quindi credo che anche questo aspetto ludico potrà contribuire anche a un atteggiamento culturale, se non altro di amore per la bellezza e di apprezzamento per le cose belle. Quindi quello che ci ha proposto sicuramente è un arricchimento per questo palazzo e anche per la città di Matera.